Il circuito di Aragon, sede del Gran Premio di Aragon, sottopone i freni ad uno stress elevato. La frenata più severa precede curva 16. La velocità iniziale è di 339 km orari. Il pilota imprime sulla leva una forza pari a 6,4 kg, sviluppando una pressione di 13,8 bar percorrendo 282 metri in 4,5 secondi. La velocità finale è di 138 km orari. La decelerazione massima è di 1,5 g.